Che cosa resta, per dirla con Charles René, degli antichi amori 5 stelle in quel nuovo progetto di Conte? Il fatto che una sia di 25 e l'altra di 38 pagine non mi pare che cambi molto. Le 5 stelle non mi pare proprio che siano cadute perché prevedevano acqua pubblica, prevedevano rifiuti zero, prevedevano wifi gratuito, prevedevano nessun condannato. Sono gli stessi principi. Chiaro che una forza che è nata in piazza aveva un linguaggio. Adesso da due legislature è in Parlamento, da questa legislatura ha formato due governi ed è entrata nel terzo sciaguratamente, secondo me, cioè nell'attuale. Quindi è ovvio che quando stai nelle istituzioni devi cambiare il linguaggio rispetto a quando stavi in piazza. Ma io credo che se nonostante tutti gli arachiri che hanno fatto in questi ultimi mesi i 5 stelle sono ancora lì al 15-16%, cioè a 3-4 punti dai grandi fenomeni che stanno al primo posto, quindi non è che gli manchi molto per ritornare al primo se si danno una mossa, vuol dire che la gente continua a riconoscersi in loro. Perché? Proprio perché non prendono soldi pubblici, perché sono intransigenti con Chiruba, perché hanno un codice etico molto più rigoroso, secondo me anche troppo, rispetto ad altri, e perché portano avanti appunto delle battaglie di legalità che tutti gli altri insieme contrastano. Direttore, ho pochissimo tempo. Qual è la lezione più importante che Indro Montanelli ti ha lasciato nel fare il mestiere? Ma è la stessa che ha lasciato a tutti i giornalisti e a tutti i cittadini, cioè che un giornalista deve essere libero, senza padroni, e soprattutto nel momento in cui scrive deve quasi fare come faceva lui, entrare in trance e sintonizzarsi con le proprie antenne e con i propri lettori. Se tu fai così, scrivi bene, semplice, chiaro, lineare, sintetico e possibilmente anche un po' spiritoso e un po' divertente, perché la gente ha già tanti problemi quando si mette a leggere i giornali, vuole capire e magari anche farsi quattro risate. Se invece scrivi per i tuoi padroni o per i tuoi colleghi o per qualche potente, la gente se ne rende subito conto che non stai scrivendo per lei e quindi non arriva in fondo all'articolo, non ti legge.